Secondo le stime delle Nazioni Unite, il 15 novembre l'umanità raggiungerà gli 8 miliardi di persone, oltre tre volte i 2 miliardi e mezzo del 1950, un numero che sembra elevato. In realtà, però, il ritmo di crescita della popolazione mondiale è diminuito drasticamente dal picco degli anni 60. È sceso anche il tasso di fertilità. Nel 2021 era di 2,3 figli per donna, era circa 5 nel 1950 e si prevede arrivi a 2,1 figli nel 2050. È aumentata però la vita media delle persone, che si prevede arrivi a 77,2 anni nel 2050. Aumenteranno così sempre di più gli over 65, con conseguente impatto sul mercato del lavoro, sui sistemi pensionistici e sull'assistenza agli anziani. Le cifre cambiano da paese a paese. Secondo l'ONU, più della metà della crescita demografica entro il 2050 proverrà da soli otto paesi. Repubblica Democratica del Congo, Egitto, Etiopia, India, Nigeria, Pakistan, Filippine e Tanzania, Cina e India, i più popolosi, si scambieranno il posto sul podio nel 2023. La popolazione cinese inizierà a diminuire dagli attuali 1,42 miliardi a 800 milioni entro la fine del secolo. I giovani hanno il loro modo di pensare, non vogliono assumersi impegni, dice Zhang, operatrice finanziaria a Pechino. Crescere un figlio oggi comporta molte responsabilità. Non è più come negli anni passati, quando era facile crescere un bambino e dopo la nascita la famiglia aiutava e il bambino poteva essere lasciato lì. Ora, dal momento in cui nascono e fin dei primi anni di istruzione, il costo finanziario è molto alto. Gli indiani, ad oggi 1,41 miliardi, continueranno invece a crescere e saranno 1,66 miliardi nel 2050, il paese più popoloso.